Ben trovati? Utilizzeremo questo tutorial per costruire assieme un quiz sulla piattaforma Edmodo. Dalla home page procediamo con accedi e utilizziamo le nostre credenziali per poter accedere alla nostra pagina. Una volta nella home page abbiamo una serie di possibilità, ci concentreremo esattamente al centro della nostra pagina sulla voce quiz. Diamo per scontato che abbiate già un vostro account e che abbiate creato una vostra classe. Non è importante che siano già inseriti gli alunni, anche se una classe vuota non avrebbe ragione di esistere, ma l'importante è che ci siano queste due cose, ripeto, l'account, ma in realtà non vi siete entrati in Edmodo, quindi lo avete, e abbiate creato una classe con un nome anche di prova. Una volta che questi due per requisiti sono soddisfatti, optiamo per questa possibilità, ovvero sia quiz, all'interno proprio della cornice dei vari moduli. A questo punto selezioniamo quiz. Abbiamo subito una doppia opzione, creare un quiz dal nulla oppure caricarlo dalla raccolta. Essendo il nostro primo quiz, per noi sarà naturalmente impossibile accedere a quiz realizzati precedentemente, quindi l'unica opzione che abbiamo è quella di crearne uno nuovo. Selezioniamo questa. Questa è l'interfaccia che si presenta, e passo passo proviamo a completarla e creare davvero un quiz di prova. Il primo stringa di testo che andiamo a completare è naturalmente il nome del quiz, ci è dato un nome di default, che è quiz senza nome, diamo prova Toscanini come nome di prova, diamo un limite di tempo che naturalmente decideremo noi, lo facciamo breve, ci sarà mezz'ora, il numero è espresso in minuti, e a questo punto diamo un'occhiata prima di procedere alle varie opzioni. Abbiamo un piccolo tutorial, o comunque una serie di aiuti che ci fornisce il modo, se seguirete questo tutorial, credo che sarà anche abbastanza semplice muovere i primi passi, davvero per poter costruire un quiz. Ci spostiamo solo brevemente sulla destra per il pulsante blu, ben evidente, che ci dice fatto, quindi che darà la possibilità di chiudere il nostro lavoro. Attenzione che fino a quando non somministreremo alla classe il nostro quiz, in realtà potremo sempre tornare all'interno del quiz per editarlo, ovvero sia per correggerlo o metterlo a posto. Soltanto quando un quiz è inviato alla classe, ahimè, non c'è più possibilità di ritorno, si può annullarlo e somministrarne uno nuovo, ma non si può più modificarlo. Con l'anteprima abbiamo la possibilità di vederlo nella sua veste definitiva, possiamo stamparlo in formato cartaccio, e possiamo anche fornire agli alunni una serie di osservazioni sulla compilazione. Ad esempio, ricordati di leggere bene le domande è che la risposta nelle domande a scelta multica è una sola. Ecco, una cosa del genere possiamo scrivere anche in bocca al lupo. Abbiamo delle opzioni, sono interessanti perché ci danno due possibilità, quella di mostrare i risultati agli alunni, e quindi alla fine della compilazione del test automaticamente avranno un punteggio, quindi da 1 a 5, 5 su 5, 10 su 10, insomma la possibilità di vedere i risultati, e l'opzione che ci permette di mescolare i quesiti. Attenzione di usare con un minimo di attenzione questa opzione, nel senso che rimescolare i quesiti vuol dire che ogni prova è simile a quella degli alunni, ma diversa nell'ordine, quindi può essere una scelta vincente per evitare il cheating, cioè la copiatura, o potrebbe essere difficile se magari parte e viene fatta passo a passo, e cui tutti devono seguire. Insomma è un'opzione, di solito io nelle domande do questa opzione, quindi di rimescolarla. Una volta che abbiamo impostato il titolo, i minuti, abbiamo dato una serie di informazioni riguardo al quiz, qui possiamo anche modificare il punto totale, possiamo procedere a crearlo. Allora, prima opzione, aggiungi il primo quesito per cominciare il quiz, come si aggiunge il quesito? con questo bottone, che non è blu, ma insomma ricorda qualcosa che si può effettivamente toccare e selezionare, fatto per chiudere, questo per aggiungere. Prima però di andare a aggiungere, cioè a creare la prima domanda, dobbiamo scegliere che tipo di domanda faremo. Edmodo ci dà la possibilità di scegliere tra cinque tipi di domande, li vedremo tutti e cinque. Cominciamo a introdurli, la risposta multipla, il vero-falso, la risposta breve, il fill in the blank, cioè riempire uno spazio vuoto, e le corrispondenze, il rimescolamento. Iniziamo quindi ad aggiungere un primo quesito che chiameremo risposta multipla. La selezioniamo, ecco che Edmodo ci dà uno spazio nel quale scrivere qual è la capitale dell'Italia. Possiamo aggiungere un link esterno, ovvero sia possiamo aggiungere una risorsa multimediale, potrebbe essere un quiz legato anche alla visione di un filmato, e addirittura un file cartaceo, quindi link esterni, siti web, video, oppure un file cartaceo, o qualcosa che abbiamo caricato precedentemente. Una risposta, e una seconda, è di default, proprio per avere la possibilità di scegliere, perché se ce ne fosse solo una, francamente, sarebbe un quiz abbastanza banale. Ma andiamo così, abbiamo la possibilità di scrivere, che so, Parigi, e naturalmente Roma, per avere l'opzione di scelta. Naturalmente, Edmodo è stupido nella risoluzione dei quesiti, ha bisogno che gli si ridica qual è la risposta corretta. Come si seleziona la risposta corretta, naturalmente, dicendoglielo, e quindi andando sulla risposta e scrivendo, eccolo qua, imposta come risposta corretta quella che noi riteniamo essere giusta. In questo caso, Edmodo sa che alla domanda numero 1, qual è la capitale d'Italia, mettiamo un punto di domanda, la risposta corretta è Roma. Naturalmente, se due risposte non fossero sufficienti per la nostra voglia di mettere alla prova gli alunni, ecco che potremmo aggiungerne una terza, l'ombra e così via. Imitando nella struttura l'invalsia quattro risposte non dovremmo aggiungere quattro, mettere anche, che so, Stoccolma, naturalmente, selezionando sempre la risposta corretta. Fatta la prima domanda, potremmo dire il nostro quesito è, il nostro test è composto una domanda sola e chiudere. Oppure aggiungerne altre. Proviamo ad aggiungerne un'altra. Naturalmente, dobbiamo ricordarci di tenere impostato risposta multiple nel caso ci interessasse una tipologia simile oppure di cambiarla. Proviamo con un vero falso. La capitale El 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 selezioniamo un terzo tipo che potrebbe essere quello non so, della scrivere nello spazio vuoto che di fatto è una domanda aperta e quindi in realtà qui la correzione è difficile e di solito viene lasciato aperto spetterà all'insegnante decidere se questa domanda ha bisogno di una attribuzione di punti o no e proviamo con una risposta breve e con le corrispondenze ad esempio qui potremmo mettere fare corrispondere dobbiamo inserire le risposte giuste ad esempio A corrisponderà con una quindi giochiamo ancora con le capitali potremmo mettere Spagna qui avremo la capitale giusta Madrid qui avremo Regno Unito qui avremo Londra e qui avremo non so Portogallo e qui avremo Lisboa ovvio che il software non farà questo abbinamento le mescolerà le possiamo aggiungere davvero quante ne vogliamo ma noi dobbiamo impostarle in questo modo quindi per far capire in modo che la risposta giusta alla domanda A e 1 dobbiamo scriverle in diretta corrispondenza sarà poi il software a mescolarle quindi avremo nel test Spagna Regno Unito e qui avremo Londra Lisboa Madrid e spetterà l'alunno trascinando la risposta corretta da fare gli abbinamenti detto questo un'ultima osservazione sui punteggi abbiamo dato per scontato che ogni quesito valesse 1 così come in default naturalmente anche su questo possiamo andare a modificare ammettiamo che questo esercizio che prevede 3 risposte abbia un punteggio più alto ecco che punti per risposta è 1 viene automaticamente messo 3 ma anche questa potrebbe essere una domanda complicata io potrei decidere che questa vale 2 in questo caso automaticamente in modo attribuisce un punteggio la somma totale quindi diventa 6 punti prima domanda un punto seconda domanda due punti terza domanda tre punti totali automaticamente Edmodo ci dice qual è il massimo del punteggio naturalmente questo è un esempio se no si può andare a modificare come vogliamo facciamo che in realtà il nostro quesito sia pronto selezioniamo fatto ed ecco che il nostro quiz è pronto per essere assegnato a una classe in realtà è messo nella nostra banca dati vi ricordate all'inizio dicevamo che possiamo creare dei quiz tenerli da parte poi riprenderli o riassegnarli ecco adesso abbiamo un quiz nella nostra banca dati detto questo possiamo procedere a una immediata somministrazione agli alunni o meglio dare agli alunni il quiz da fare oppure tenerlo per una seconda editing per una seconda revisione ammettiamo che questo sia veramente il quiz che vogliamo diamo una data di scadenza la somministrazione lo somministreremo agli alunni decidendo che vada svolto che so entro lunedì 5 andrà svolto a casa quindi ammettiamo che il termine ultimo di consegna sia la mezzanotte eccolo qui pm om e da quel momento il quiz una volta inviato agli alunni sarà si potrà svolgerlo fino a quest'ora dal momento allo scoccare tra mezzanotte e un minuto ecco il quiz non sarà più disponibile o meglio gli alunni lo vedranno ma non potranno più completarlo quindi mancando la consegna possiamo spuntare aggiungere registro automaticamente aggiungendo il registro il risultato del quiz verrà inserito in quello che è un registro di classe che ci permette non soltanto un'elaborazione ma anche l'attribuzione di voti vi ricordo che questo non è il registro di classe è il registro di Edmode l'ultimo campo che ci rimane è quello di invi a ammettiamo che io volessi inviarlo a formazione toscanini questa sera un po' lento ecco che arriva dovrai semplicemente selezionare il gruppo o la persona perché potrebbe essere un quiz e inviamo una singola persona e procedere a invio da quel momento il quiz è online basta così arrivederci un po' lento un po' lento un po' lento un po' lento